Buongiorno ragazzi e bentornati su Fortnite. Come vedete non c'è la mia webcam perché adesso vi faccio una piccola intro per spiegarvi un po' in cosa consiste questo video. In pratica è stato registrato un paio di sere fa, giocavo insieme al mio amico Joe che lui fa streaming su Twitch e la partita mi è piaciuta, è stata divertente, abbiamo fatto un bordello di kill e quindi ve la voglio portare qua sul canale. Bene, chiaramente l'abbiamo giocata di sera, tardanotte se non ricordo male e quindi non mi sentirete parlare come adesso tutto bello, felice e spensierato ragazzi. Quindi vi avviso perché non voglio sentire, leggere nei commenti Mabistar perché non parlavi, perché qui, perché là. Ragazzi stavo giocando appunto di sera e alla sera mi faccio un po' gli affari miei, non parlo molto, mi concentro di più sul gioco e quant'altro. Quindi ragazzi godetevi questi 20 minuti perché sono successe delle cose estreme, delle kill allucinanti, veramente una cosa magnifica. Come vedete eravamo un team da 4 ma molto molto presto ragazzi saremo soltanto in 3 e ci siamo fatti tutta la partita in 3 e ne vedrete veramente delle belle. Non vi anticipo assolutamente nulla, quindi vi auguro buona visione ragazzi per questi 20 minuti, prendete i popcorn, rilassatevi e noi ci vediamo al prossimo video. All'arma da distanza, cioè c'è spuglio, fede, vedi cosa che c'è chi riesce a fallo su 265 lì, davanti, lo vedi lo vedi? Sì sì, sta a saltà, dai ci provo, dovevi sparare. Gli appagliati, gli appagliati c'è spuglio. Sì sì, c'è il gruppo, la installa. Quest'anno? La rossa o la grigia? Quell'altra grigia. Ok, venendo con me, la monta tutto per finire, la monta, ci siamo, la ventura. Perché sta a storia dei pagliacci come noi? Ma che è i pagliacci? Non lo so, io ho detto, volendo essere sì, dieghi, ti ha detto, no, ci sono i pagliacci, ci sono i pagliacci, cazze. Boh, hanno aperto l'apro, eh? Sì. E guarda la gente. Ragazzi, siete ancora in 39, non vorrei di... Non so. Ma dov'è quello, eh? Ma cosa non lo fai, che cazzo? Ma perché non entri nei colpi? Ma come è che cazzo è un po' difficile qua? Guarda! Ah, non mi so, 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 non mi entra. Ah, ma è andato tu! Adesso? Madonna, ti so prendilo, poi prendo, prendo, prendo. ma è tornato in una maniera impressionante fete non farà pino perché lo farò in testa con gli scudini si apre di questo l'altro qua bisogna un attimo regalano secondo bimbi dai scudini e li ho lasciati l'ho preso si basta e maria c'era qualche munizione del lancio granata almeno farò pure io ho zero stato venditemo insieme al cecchino che ce l'abbiamo a scappare regatore vogliamo andare in l'altro bici alle munizioni del lancio però è sbagliato a darmi le munizioni perché tu c'è quello è vero fedeli d'ambele va non te possiamo ancora rilavere fatte le robe andiamo a prendere l'apro o andiamo in safe ragazzi davanti è l'apro è in safe adesso è l'apro è in safe oh sono sul camion andiamo a prendere da vedere che ha portato a casa questa partita mi morì ok non è solo non è solo però quei scudini li voglio i compagni dovete stanno ha tolto il disturbo bonbon sexy shop le sombrano già in safe andiamo andiamo in safe andiamo in safe e si è dietro al camion ma guarda l'alga adesso sopra la camera di risulta ma guarda ma guarda l'alga questo ma vaffanculo mori va il rio con le mancia granate ecco qua signori si è svegliata no si è sempre stata svegliata no a zero colpi no la testa ti si è svegliata da poco della vita ma che cazzo stai a dire ma regà stai a costruire su destra su destra eh regà dobbiamo costruire anche noi eh ma loro ce l'avevano adesso lascia testa dove P? quale casa? questa boh andiamo qui stiamo dentro magari eh ma ci hanno visto quelli da sopra ci hanno visto siamo in 12 no? si quindi boh vediamo aspettiamo l'altro team che fa qualcosa magari dietro c'è manoni c'è c'è qualcuno è solo sicuro ragazzi oh io che non mi ha aspettato il capo c'è più cazzo stai rivela di mi sa che sta a nord? sud 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 ma l'ho fatto ma gli è morto è morto è morto ok ok adesso quelli là sopra quelli da sopra la setta a te ne abbottare c'è fino da ora di da ti fermo un attimo guarda che stanno pure a sud ovest a te ne abbottare da dai avete capito regà? sud ovest? si si quindi stavamo sempre in mezzo a quelli che si sono fatti ma quelli non stanno però adesso non vedo vediamo un salato di fa adesso vedete prego non ce l'hai a sud ovest sto buttato giù lì c'è lì dietro si hanno costruito l'omega torre ecco è da quelli sta sta da quelli la safe più alto regà allora o puciamo questi qua si può lanciare si deve da butti giù subito ma io volevo aspetta a questi che scendevano però uno l'avevo trammortito eh andiamo dietro la collina magari lì non ci vedono mamma mia ma che cos'è? ma che cos'è? bello sto pre-wire bello non ci ha bombardato mamma mia no te l'imbarzo non faccio vai 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 sotto 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 vai 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 no 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 sotto ora indietro oddio queste le scale le scale è un ascio che quello eh bravo terra uno per l'altra terra per l'altro stalla stalla costruendo in alto è in basso vai arrivo è sceso tuoi come vai? per su occhio c'è altra gente ce n'è stato dietro madonna on fire eh ma non c'è più vita però avete le carte rica? scusate si si qua è schieno ma fatta che pure qua stanno mica l'avevo viste ma riga guarda solo vai riga chi è? attire ti avendo questo allora oh ma aspetta via no però ci stanno altre bende qua o qualche palle la slur chi è che è? ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io se vuoi ok ok eh magari questo oppure ancora 75 eh non avevo più ragazzi la safe la safe la safe la slur l'avete la slur raga? no andiamo andiamo via no raga lancia lancia la zio oro qua questa scherza o lascio lascia quello blu che c'hai preso 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 c'è 9 corti quelli faccio quelli che disintegro giuro non è un safe si si qui di me rega andiamo con questa collinetta questa un po' più alta vicino a Dometo video sai? si si qui c'è una cassa aspetta vabbè garze inutili fede però il legno fede eh devi costruire io qui costruisco lo scudino c'è qua dentro raga non so quello è così grosso è da due è da due è da quattro no è da quattro vieni è un due per è un due per due è giusto fallo più alto 800 materiali ma di gasta che domotiva questo è un quattro per quattro vieni di qua ok quattro per lato alziamo un meno questa è una bombarda aspetta un po' aspetta un po' aspetta un po' aspetta un po' porti sfiga io buonino il gatto è lo cazzo non lo so dove sta vai da loro chiuditi con loro ce l'abbiamo dura davanti fede andate da qua via mi hanno visto no mi stanno pusciando a destra teso da B non so ne ho curato ne ho buttati giù due eh ma ci sta ancora quello là sopra la montagna lì vai finiscilo B finiscilo bravo B levate da lì vieni qui siete tre contro due con calma fede vieni a noi per favore ciao rega ho i ragazzi regate me a lasciare come fa esso come fa esso ti ero i mattoni se puoi B dove sta l'altro eh non ho tanta roba lei c'aveva le scurini B sì no ma qui devono scendere devono venire qua questi avete lanciato e lanciagranate ragazzi spammate come non mai ma si sono buttati questi ma dov'è che sta si 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 sono scesi stanno dentro al pomodoro stanno visti visti mamma mia vai ma io vabbè che sta succedendo là i roscimi e una casa qui e fanno una pippa vabbè quella casa è difficile ma lì dietro uno morto ho io l'altro non lo vedo se siete riuscite di tutti volarvi di tutti volarvi di tutti volarvi di tutti volarvi di alberi di alberi raga preso 3 contro 1 eccolo B bella raga mi aveva anche colpito mamma mia grande prova grande prova bucchia vacca bravi ma che abbiamo fatto? hai registrato B? non lo so sì beh io in teoria ce l'ho ho fatto 9 kill raga io ma io pure questa è stata una allucinante io l'ho fatto 5 18 più 5 23 kill guarda è buono in tre iscriviti al canale Grazie a tutti.